L'agnello, biodiversità, qualità e tradizioni gastronomiche dell'Abruzzo Pastorale. Questa mattina un convegno promosso dall'Istituto Alberghiero Ipsar De Cecco di Pescara con il Consorzio di tutela dell'agnello del Centro Italia e con il patrocinio della provincia di Pescara. Il nostro obiettivo è quello di far conoscere agli studenti la qualità dell'agnello IGP del Centro Italia e quindi di promuovere un prodotto identitario e un prodotto particolarmente eccellente della nostra tradizione. In questo modo noi abbiamo anche l'obiettivo di promuovere il nostro territorio anche da un punto di vista di turismo e non gastronomico. L'evento nasce dalla sinergia tra sistema della formazione e mondo della produzione agroalimentare e istituzioni che condividono l'obiettivo comune di promuovere un prodotto locale come l'agnello, simbolo della tradizione pastorale in mezzo di tutela della biodiversità. La tendenza di consumo della carne di agnello che purtroppo è in calo negli ultimi 20-30 anni e sulla qualità di questo prodotto invece, che merita tutta l'attenzione e quindi dell'iniziativa di valorizzazione e di conoscenza del prodotto sia al consumatore sia agli utilizzatori che potrebbero essere i futuri chef delle scuole alberghiere. Considerare l'ecosistema come un patrimonio da proteggere senza dimenticare ciò che per natura produce equilibrio, salute e ricchezza dei territori. Questa biodiversità si mantiene se si mantengono quei paesaggi e quegli ecosistemi creati dalla pastorizia come i pascoli secondari, come le praterie, i prati da foraggio eccetera. Se la pastorizia verrà abbandonata come sta succedendo, questi ecosistemi, i prati in particolare scompariranno e verranno rioccupati e ricolonizzati dal bosco. E allora molte specie legate ad ambienti aperti, tra cui molte specie floristiche rare, pensiamo anche alle tante orchidee, oppure molti uccelli o insetti che oggi sono in via di estinzione proprio perché questi ambienti creati dall'uomo stanno scomparendo. E quindi benvenga anche da un punto di vista ambientale, ecosistemico, il ritorno degli armenti sui monti d'Abruzzo, perché i monti d'Abruzzo sono una creazione essenzialmente dei pastori, come lo diceva anche Silone da millenni a questa parte.